dopo di questo ogni tanto taglia il medico dittorio marina li protegge ma non ha mai costruito verità di comodo ceduto allo sconfarto e che ne viva la lezione che il padre d'amma ai figli marco diceva che nonostante la loro giovane età dovevano sentirsi parte attiva e integrante della società e che avevano già grandi responsabilità e diceva di essere ragazzi giusti per prepararsi a essere uomini giusti diceva di ricercare sempre la verità e la giustizia senza metà